Per un altro pacchetto piccolo ed importante ho selezionato una carta perlata tinta oro e in abbinamento un nastro fantasia col tirante. Pizziamo il primo lembo di carta, pieghiamo il terminale, passiamo al nastro, formo la croce e a questo punto prendo il tirante e velocissimamente da una parte e velocissimamente dall'altra e vado poi a fissare con un semplice nodino doppio la mia coccarda. Grazie per la visione!